Oltre un metro e mezzo di neve caduto da ieri in Alta Valmarecchia, oltre un metro in Val Conca. E' sempre più grave l'emergenza neve nell'entroterra di Rimini. In Valmarecchia il numero delle persone evacuate che ieri sera era arrivato a 189 unità è salito a 220. Viene spiegato dall'assessore alla protezione civile della provincia di Rimini, Mario Galasso, sono oltre 200, da ieri sera alle 10.30, le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Eravamo coscienti che sarebbe arrivata questa grossissima ulteriore nevicata. Effettivamente da oltre 24 ore sta nevicando in maniera veramente esagerata, con vento che stanotte è stato impressionante sentire quanto fischiava e sibilava. E per quanto potessimo essere tranquilli nel disegnare nei giorni scorsi, l'altro ieri addirittura con il sole, questo tipo di scenario puoi descriverlo col sole o viverlo concretamente in realtà la situazione cambia. Abbiamo già ricevuto in poche ore, già questa mattina, oltre 150 richieste d'aiuto. Moltissime persone sono in panico. Ricordiamoci che qui in Valmarecchia sta nevicando in maniera molto intensa, ormai da 11 giorni. Per cui la stanchezza fisica, con degli accumuli di neve che raggiungono quasi 3 metri, abbiamo tantissime case con le porte di ingresso completamente ostruite. Sono situazioni che oggettivamente, per quanto uno le possa anche avere elaborate e pensate, poi viverle diventa complicato. Questa notte col buio, quando è iniziato a far buio, i telefoni sembravano impazziti perché chiaramente il buio non aiuta. Stamattina con la luce, vedere, rendersi conto qual era la situazione, devo dire che ha veramente messo molte persone, sono andate in panico. Stiamo facendo fatica a tenere aperta anche il collegamento principale, come la Marechiese, e quindi la situazione nei comuni è che le strade sono completamente chiuse. Abbiamo dei sindaci che sono degli eroi, che sono lì sul territorio, che cercano di tranquillizzare i propri cittadini. Abbiamo i cantonieri che continuano tutta la notte, sono oltre 24 ore, e siamo anche molto preoccupati per questo, abbiamo anche provato a dirgli che tanto le strade si chiudono di fare qualche ora di riposo, ma non hanno voluto sapere. Siamo qui in forza, siamo molto fiduciosi, sappiamo che questa perturbazione ci accompagnerà per altre 24 ore, dobbiamo stringere i denti, tenere forza, sapere che siamo in tanti e che possiamo farcela. Siamo veramente convinti che ce la possiamo fare, stiamo chiedendo altri mezzi per poter aiutare le persone, stiamo continuando a evacuare le persone per portarle all'Istituto in Audi, però insieme possiamo farcela, quindi forza e coraggio, mancano poche ore, facciamocela, teniamo botta e va bene così. Che sono attualmente le persone evacuate? Ma ormai superano le 200 persone, le persone che sono andate presso parenti e amici, che avevano problemi sanitari anche in ospedale e qualcun altro è stato accompagnato anche all'Istituto in Audi. Siamo pronti, i numeri per accoglierli li abbiamo. Se c'è bisogno, se vi siete tranquilli, non abbiate paura, vi portiamo fuori casa, non c'è bisogno di stare a casa e soffrire lì, insieme con altre persone, insieme ai volontari, che penseranno all'alvito, all'alloggio, a tenervi in compagnia, forse un po' più di tranquillità, di rilassatezza per affrontare queste ore e se è meglio. Ancora non è stata chiesta però la calamità naturale? Ma in questo momento non mi risulta che la Regione l'abbia ancora chiesta, è stato chiesto lo stato di crisi regionale, c'è un problema legato che nel momento in cui la calamità naturale immediatamente viene aumentata la CIS regionale, per cui il Presidente Arrani ha valutato in una prima fase questo. Sappiamo che però anche a livello statale, a livello governativo, si sono mossi, è stato riconosciuto dato il potere alla protezione civile nazionale, con la quale siamo comunque in contatto. Adesso intanto pensiamo ad affrontare questa situazione. Il secondo passo da domenica a lunedì sarà quello di cercare di portare via tutta la neve possibile e contemporaneamente questo è il terzo passo e anche tutto quello della richiesta danni per cercare che anche le attività economiche e anche tutte le attività produttive che in questo momento sono chiuse, fanno fatica ad andare avanti, possono invece ripartire perché il bene per bene di questa vallata e di tutti è anche che l'attività economica riparta.